Nome e cognome? Pedro Poveda. Quello delle maestre? E' qui che fate la scuola? Sì. Sto documentando sul problema dell'educazione in Spagna. Prima andrebbero formati dei maestri cristiani. La vita di Pedro Poveda, sacerdote, pedagogo, martire della rivoluzione spagnola, raccontata nel film di Pablo Moreno Hernández. Poveda, amico forte di Dio. Lunedì alle 21.05. Dov'è il prete? Lo hanno appena portato in Caglie del Piamonte. Poi lo hanno portato subito in Caglie Narvaez.